Allora, eccoci qua. Sono tornato da poco a caso, devo dare una piccola sistemata, ma prima di tutto voglio raccontarvi questa cosa qui. Sono riuscito, quasi miracolosamente, a ritagliarmi un po' di tempo per me e ad andare al cinema a vedere questo Aldo Giovanni e Giacomo, questo Odio l'estate, diretto da Massimo Venier, questo grande ritorno registrico in abbinamento col trio famoso, che è, insomma, è tanta roba, è davvero tanta roba. Ovviamente entriamo nel discorso che anche io, come tutti quelli della mia generazione, o molti di quelli della mia generazione, sono cresciuto con i corti di Aldo Giovanni e Giacomo, Tel Kiel, Telun, tutti i vari spettacoli teatrali che poi sono stati proposti, riproposti e riproposti fino alla noia su Canale 5 e ovviamente con i loro film, con i loro film più famosi, più acclamati, da tre uomini in una gamba fino a Chiedimi se sono felice, Passando per tu la conosci Claudia, e poi piano piano questa scintilla si è spenta come se fosse una sorta di crisi di mezza età. Ecco, si sono incrociati con altri artisti, hanno fatto Il Cosmo sul Comò, hanno fatto La Banda dei Babbi Natale, piano piano questa, diciamo, nicchia di persone che egli ha amati, eccetera, in questi ultimi 5, 6, 7 anni, fatemi vedere ben bene, anzi quasi 10 anni, si è un attimino spenta, no? Da quasi Dal Cosmo sul Comò, Unplugged ancora ancora, che era uno spettacolo teatrale portato al cinema, e diciamo a mutta mudica non ha avuto il successo che si speravano, il ricco, il povero, il maggiordomo non è andato chissà dove, io l'ho perso, non sono riuscito a recuperarlo, e poi c'è questo odio all'estate per il quale c'era attesa, c'era un'attesa non indifferente, diciamo, tanta curiosità, il successo economico è arrivato subito, e qui ovviamente cominciano a sprecarsi le riflessioni, no? Intorno a questo andare, tornare del trio che non si capisce bene dove vogliono andare a parare da un po' di tempo a questa parte, del Cosmo sul Comò, ancora la gente critica il Cosmo sul Comò, che è semplicemente un film brutto, come ce ne sono tanti, un film che non aveva una idea registica dietro. Così come Fuga da Reuma Park, che al di là dei due film, chiamiamoli minori perché nessuno ne ha mai parlato più di tanto, i Babbi Natale e il ricco, il povero, il maggiordomo, a parte quegli altri film sono spettacoli teatrali portati al cinema, sto parlando da Unplugged in poi, e questi due scivoloni giganteschi, ma perché? Perché il Cosmo sul Comò ci si affida a Marcello Cesena, che in realtà fa quello che fa in tv, cioè mette insieme delle cose e finisce un percorso, un film, in questo caso. E l'altro invece è Fuga da Reuma Park, che non era nient'altro che l'ennesimo autoelogio di questo spettacolo anniversario, non mi ricordo se era 25, 20, 30 anni, non mi ricordo, di carriera di Aldo Giovanni Giacomo, che hanno fatto questo spettacolo dove riproponevano le loro più grandi glorie. E cosa fanno nel film? Fanno i tre vecchietti classici che guardano i loro spettacoli e poi fuggono perché vogliono uscire da questo Reuma Park, che in realtà è un ospizio. Chiaramente se fai un progetto così il risultato cinematografico non esiste, ma perché non c'è un'idea registica alla base, né nel Cosmo sul Comò, né tantomeno in Reuma Park, perché non abbiamo appunto un'idea che si sposi col concetto di cinema, da un certo punto di vista. La narrazione non esiste e ovviamente non è che possiamo aspettarci qualcosa di non retorico da un trio comico così popolare, così commerciale anche. La retorica c'è sempre stata nei loro film ed è sempre stata molto romanzata molto bene, in maniera molto naturale, in maniera molto umana. E quindi eccoli qua che ritornano con Odio l'estate. Odio l'estate è un film, io credo, il loro film più maturo, il loro film più bello, perché in un certo qual modo riflette su questi scivoloni che sono stati fatti in questi ultimi dieci anni. Riflette in maniera, se sentite qualche rumore di sottofondo ovviamente non preoccupate, non sono da solo, ovviamente non posso stare sempre ad aspettare che tutto finisca nel mondo perché io devo girare un video. Dicevamo, riflette in maniera sua, a suo modo, inventando dei personaggi attorno ai personaggi di Aldo, Giovanni e Giacomo e citando in maniera molto intelligente le storiche gag del trio, dei film del trio, non dei cohorti o di quant'altro. La scena ha chiaramente, da qui in poi farò spoiler, quindi chiudete il video, il film è bellissimo, andate a vederlo, tanto l'avete già visto, è incassato a 3 milioni. Potete andare avanti alla visione se avete visto il film. La scena nel treno della cochina bella fresca che viene appena appena accennata sul traghetto è la cosa che mi ha divertito di più perché è leggerissima, è proprio leggerissima. La scena in ospedale, ovviamente. È tutta una citazione, sì che uno dice, ah vabbè la citazione, che noia, solita. No, non è solita perché se fosse stata una citazione autoreferenziale, come Reoma Park, ci avrebbero messo Giacomo nel lettino d'ospedale e avrebbero ritirato fuori magari qualche attore che aveva collaborato con loro in quelle determinate situazioni. Invece la citazione è intelligente ed è duplice perché c'è sia la citazione appunto alla scena nell'ospedale di Tre Uomini e una Gamba, sia la citazione a Chiedimi se sono felice, dove c'è tutto questo problema di salute di Aldo che sta per morire nel film di Massimo Veniero. E qui un pochino questa cosa ritorna, no? Un pochino ancora una volta Aldo il protagonista, tra virgolette, perché comunque è il primo dei tre che viene presentato, è l'ultimo che chiude il cerchio, è la voce narrante, come in Chiedimi se sono felice. Ma qui si racconta l'evoluzione, che c'è anche un po' una sorta di passaggio di testimone molto metaforico, molto velato, perché è una cosa che ho visto tutta io, perché c'è Davide Calgaro, c'è Maria Di Biase, ci sono insomma dei comici più giovani di Aldo Giovanni e Giacomo che comunque reggono il sistema, perché la cosa che mi è piaciuta di più, al di là dell'ironia, della comicità, del guizzo, del trio, che si conosce tantissimo, la cosa che mi è piaciuta di più è la perfetta amalgama tra tutti, la bellissima coralità di questi personaggi, che sono tutti allo sfacelo, sono tutti arrivati ad una situazione dove qui è finita, non c'è più niente da fare, sono tutti uomini finiti, sono tutti uomini che hanno raggiunto dei successi, ma non troppo, oppure che non li hanno raggiunti affatto, che gli manca sempre una soddisfazione nella vita e vedono tutto in maniera molto, 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 molto negativa. C'è ogni tipo di mamma, c'è ogni tipo di papà, c'è ogni tipo di figlio in questo film e tutti questi rapporti si incastrano, si intersecano in una commedia leggerissima, ma anche molto, molto coinvolgente, emotiva. Io non vi nego che alla fine dal Ti voglio va bene anch'io papà in poi, io credo di aver fatto scendere diverse lacrimucce, perché è stato molto toccante come cosa. Non posso dire il loro film migliore, perché comunque ce ne sono tantissimi in cui, no, tre uomini e una gamba, così è la vita, sono quelli storici a cui tutti siamo legati, chiedimi se sono felice, Al John e Jack è un film pazzesco e nessuno lo riconosce mai, qualche problema di sceneggiatura, certo, ma a livello registrico è una cosa fenomenale, da Scorsese in avanti solo citazioni al grande cinema in quel film, e poi tu la conosci Claudia, che è uno dei più deboli, ma a me piace anche. Questo Odio all'estate io credo che sia il loro film più maturo, credo che sia il loro film anche più emotivo, più sentito, e come veramente io ho percepito questa voglia di raccontare una sorta di disagio, tra virgolette mettiamola così, che hanno vissuto nel riproporre per diversi anni più o meno sempre le stesse cose, cioè facciamo Unplugged con corti diversi, ma sono i corti, e Unplugged a me alcuni corti fanno veramente ridere, io credo che il Museo di Arte Moderna sia uno dei loro picchi altissimi, veramente. Oppure no, facciamo il Cosmo sul Comò, che boh, sono sempre i corti però al cinema, ma dobbiamo fare le pernacchie, facciamo Reoma Park, che è veramente una auto leccata di culo, cioè, fuga da Reoma Park, è giunto il momento di farci i pompini a vicenda. E quindi Odio all'estate è un po' tutto questo, mettere insieme tutte queste cose, e dice, ma siamo arrivati a un punto in cui bisogna cambiare, che è un po' il tema del film, bisogna cambiare, oppure mantenere sempre le stesse cose. Bisogna avere il coraggio di fare un passo in avanti, bisogna avere il coraggio di fare il bagno nudi in spiaggia dopo essersi fumati una canna, bisogna avere il coraggio di togliere un po' di tempo al lavoro, che tanto il mutuo è pagato, la macchina è a posto, posso lavorare di meno, bisogna avere il coraggio di dare una sberla al proprio non figlio, bisogna avere il coraggio di andare a cantare con Massimo Ranieri, bisogna avere il coraggio di chiudere la bottega storica di famiglia e vedere che cosa ci si può aspettare dalla vita arrivati ad un'età considerevole, bisogna avere il coraggio di parlarsi, di dirsi ti voglio bene, bisogna spingersi oltre. E questo film lo fa in una maniera leggerissima, la mano di Massimo Venier si vede dalla prima inquadratura, un quadro perfetto, un'idea cinematografica che è splendida, che anche nei film leggeri, anche nei film che non sono grande cinema, anche nei film che sono commerciali, che devono fare 3 milioni al botteghino di incassi, che devono rilanciare un trio comico che era quasi finito nel dimenticatoio, e via discorrendo, anche lì un minimo, un minimo di intelligenza narrativa ci vuole. E Massimo Venier è un grande regista. E sostanzialmente niente, tutto qua, c'è la storia di questo Odio all'estate, la storia di questi tre, come al solito, incontro-scontro con lo strano trio, non la strana coppia in questo caso, anzi lo strano trio di famiglie, una famiglia, passatevi il termine, perché loro ci giocano sempre, quindi non è razzista, non è nessun tipo di sfregio. Ecco, la famiglia di Terroni, che ha il figlio milanese, è una cosa meravigliosa. Tutti i rapporti, le bimbe che ciucciano, che fanno le bollicine nel caffellate, nel nesquic, cioè è una roba... Ragazzi, in questo film si respira tanta quotidianità, tanta vita, fino ad arrivare al vigile toscano, vicino a Follonica, che li ferma e gli dice che devo fare, io gli compro i kiwi, perché mia figlia adesso ha la fissa che vuole mangiare solo i kiwi, solo i kiwi, solo i kiwi, e che gli vuoi fare? Gli compro i kiwi. Bellissimo, bellissimo, semplice, efficace, mai sbavato, pulitissimo, veramente geniale, sotto tutti i punti di vista, ho riso tanto, mi sono divertito tanto, e mi sono stupito di quanto tutto il contorno che circonda i tre personaggi di Aldo Giovanni e Giacomo sia convincente, sia ben strutturato, ben studiato, che forse era quello che mancava dal 2006. Un film di Aldo Giovanni e Giacomo dove tutto quello che gira intorno ad Aldo Giovanni e Giacomo è studiato, è ricercato, non è semplicemente ci siamo noi che facciamo il nostro show. Io ve lo consiglio tantissimo, se lo avete visto ditemi che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, penso che lo andrò a rivedere, ma semplicemente per andarlo a vedere anche con la mia famiglia, perché credo che sia un film che vada visto con tutta la famiglia, perché parla anche di questo, per cui correte al cinema, andate a vederlo, oppure andate a vedervi Burst of Prey e fate un po' come vi pare, che anche quello dicono essere molto bello, però insomma, una volta che una commedia leggera italiana funziona bene, magari, cioè non ha bisogno dei vostri soldi perché già sta incassato, però diamo un po' di credito a questo Massimo Venier che è un grande regista e che lavora bene con questi personaggi. Io spero a questo punto di vedere un altro film diretto da Massimo Venier, con Andro Giovanni e Giacomo, perché no? Aspetto i vostri commenti qua sotto, iscrivetevi al canale, condividete il video se vi è piaciuto e fate tutte quelle cose che gli youtuber famosi mi chiedono di fare, ma che io non vi chiedo mai, perché non c'ho voglia. Ciao.